ciao a tutti oggi sono Adobe Reggen per provare per voi un prodotto 100% made in italy è il nuovo blossom fly up plus che sia un prodotto performante lo si capisce a prima vista infatti il bianco in fenolo e la struttura sandwich lasciano ben poco l'immaginazione l'azienda lombarda produce solo prodotti d'alta gamma e questo sci è sicuramente il più performante dopo i materiali da gara il fly up plus è un prodotto riservato a sciatori dall'ottimo bagaggio tecnico e si comporta molto bene in tutti gli archi di curva per questo si dimostra subito uno sci a tutto tondo anche se il suo territorio di caccia è sicuramente l'argomento è un cavallo da corsa le sciancature sono quelle del race car fly up mentre la struttura in legno titanal è quella dello sci da gara di casablos un mix davvero letale anche la piastra work up pro contribuisce a rendere lo sci molto graduale in deformazione e quindi a restituire un pacchetto ancor più performante se non avete paura di share forte correte a provarlo come 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 Grazie a tutti.